Con il confermato presidente della comunità montana valseriana Gian Piero Calegari la squadra di governo è finalmente pronta quindi andiamo a conoscerla. Sì, abbiamo sei persone che si occuperanno Massimo Mostabilini per quanto riguarda le aree interne Malue da Testa, istruzione e cultura, Cinzia Locatelli, servizi sociali, politiche familiari, giovanili e l'impianto del TOR che è un impianto che riguarda magari un po' tutti, non solo questo assessorato Paolo Baronchelli, patrimonio e territorio, Giovanni Pezzoli, agricoltura, valorizzazione e produzione agroalimentari del territorio e Matteo Morbi, protezione civile, assetto geologico, farà anche il vicepresidente. Una squadra nutrita e ben distribuita possiamo dire. Sì, la squadra è nutrita, la settimana prossima pensiamo di nominare ancora alcuni consiglieri delegati in problematica è che noi abbiamo 38 progetti in essere sul territorio abbiamo delle aspettative per altri due o tre progetti importanti e oltre a questi nel 2025 avremo i progetti delle aree interne per cui alla fine servono tante persone per poter lavorare e per rispondere a tutte le esigenze del territorio. L'esigenza principale è la viabilità, l'abbiamo detto tante volte l'abbiamo vista parlare con il ministro Salvini alla Bergenfest ecco, cosa pensare per il futuro? Sulla viabilità noi ci stiamo interessando, come dico sempre, per la viabilità con le piste ciclopedonali perché è una viabilità, una cosa importante che magari negli anni scorsi non c'era ma adesso stiamo sistemando tutti i punti, ormai sono quasi tutti a posto e abbiamo fatto di grossi investimenti poi ci stiamo interessando anche del prolungamento della Teb il progetto dovrebbe essere pronto per la fine di ottobre che andremo a presentarlo e poi abbiamo sempre questo progetto iniziale della viabilità lo dico tutte le volte partendo da Clusuna ma affrontando la viabilità poi in fasi successive per tutta la viabilità della Valle Seriana e io la seconda volta che parlo con il ministro delle infrastrutture mi ha detto anche questa volta di mandare il progetto manderò il progetto, cercheremo di capire che cosa si può fare noi abbiamo fatto come comunità montana tutto quello che potevamo fare oggi tocca ad altri se riescono a darci una mano perché noi i soldi per la realizzazione del progetto, per la realizzazione dell'opera è chiaro che non li abbiamo per cui noi confidiamo nella provincia, nella regione, nel ministero, nell'ANAS tutti questi enti che possono fare qualcosa per fare in modo che questa viabilità della Valle Seriana possa trovare soluzione Tanti appunto le problematiche, i punti su cui state focalizzando l'incontro con la provincia per quanto riguarda la semafo della Martinella per esempio come è andato? No, è andato bene, noi stiamo facendo oltre che il progetto diciamo della viabilità della Valle Seriana stiamo affrontando anche alcuni punti critici non è semplice perché ogni comune ha la propria problematica però voglio dire noi non molliamo e per cui cercheremo di affrontare tutti questi punti con gli amministratori per cercare di risolvere quel poco che si risolva che si può risolvere senza un grosso dispendio di soldi e questo sicuramente andremo avanti, lo faremo tutte le volte che si va, tutte le volte c'è qualche problematica da risolvere però voglio dire siamo un po' testardi e andiamo avanti da questo punto di vista speriamo di riuscire ad ottenere qualcosa di positivo grazie